eccoci siamo live metto live anche i nostri due i miei due ospiti ciao a ricco ciao a mike buonasera buonasera innanzitutto vi ringrazio per essere i primi due ospiti di questo nuovo format un format che mi è venuto in mente praticamente il giorno in cui vi ho scritto non so non so per quale motivo mi sia venuto in mente ma mi è venuto in mente facciamo un format in cui si parla sostanzialmente delle cose che succedono in ambito core quindi non solo punk ma anche meta l'alternative o quello che ci capiterà probabilmente di parlare anche di cose futili però il bello anche questo dai c'è anche di parlare di cazzate salutiamo warhols anche se ricco alla maglia dei ravens io subito che fa polemica ecco subito che polemizza su cose di cui io non capisco nulla siamo in due assolutamente nulla allora metto subito la sigla del del tg core ci ho speso veramente un sacco di tempo quindi piacetevela sperando che non ce la seguino per copyright il famoso pop punker americano machine gun kelly sbotta davanti ai suoi fan definendo gli slipknot dei fottuti cinquantenni con fottute maschere ma cosa c'è realmente dietro il dissing dell'ex rapper i turnstiles sono sulla bocca di tutti analizziamo l'evoluzione del quintetto di baltimore dalle origini hardcore al nuovo approccio musicale che agli ascoltatori più esperti tanto nuovo non è mai sembrato nuovo singolo per i bring me the horizon la band inglese in costante evoluzione sforna un nuovo pezzo che strizza l'occhio all'ondata neo pop punk molto in voga negli states genialata o paraculata ok questo era sostanzialmente erano i tre temi che tratteremo oggi iniziamo dal primo allora io mi sono fatto mi sono fatto una mia idea ma me la son fatta cioè per farmela sono dovuto andare un po a cercare su internet perché la notizia l'avevo sentita l'avevo letta anche su qualche forse su facebook comunque su qualche post italiano ma in italia non è è arrivata un po diciamo di sbieco l'hanno presa un po così è una notizia che va presa sul ridere l'hanno presa sul ridere un po tutti però nessuno ha spiegato realmente quali siano le origini di questo dissing tra tra questi due alla fine li definirei tutti e due boomer anche se uno è un boomer vero e proprio perché è corey taylor del 73 sono andato a guardare oggi quindi un super boomer invece machine gun kelly non so di che anno sia ma penso che sia un 90 e qualcosa machine gun kelly mi sembra che ha tipo forse 30 anni più o meno credo 30 31 anni comunque inizia a entrare anche lui in zona boomer in zona boomer e si vede si vede in pieno avete avete sentito la notizia prima che ne parlassimo insieme immagino di sì 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 vabbè ma un coglione allora riassumendo diciamo che quello che è successo è che nell'ultima tappa del riot fest a chicago il 19 settembre quindi è una notizia anche abbastanza fresca c'erano due due o più palchi comunque due palchi diciamo nel main stage stavano suonando gli slip lot o hanno iniziato a suonare gli slip lot nell'altro stage suonava machine gun kelly machine gun kelly deve essersi un po preso ed essersi un po scazzato perché il suo pubblico diciamo aveva in parte lasciato lo stage per andare a vedere gli slip lot e quindi ha commentato tra un pezzo e l'altro dicendo parole testuali parole ehi sapete tutti cosa sono davvero felice di non fare avere 50 anni indossare una fottuta maschera strana su un fottuto palco cazzo di merda comunque qual è la vostra caramella preferita vabbè sono andate tutti di là no quindi un po cringe la cosa no allora innanzitutto vorrei capire che cazzo ci faceva machine gun kelly in un festival dove ci sono gli slip lot e sono andate anche questo oltretutto ma sembra che machine gun kelly comunque si stia soprattutto in vabbè soprattutto in america a parte che adesso comunque i festival quest'estate sono stati confiati in america per gli artisti americani o no c'è qualcuno che è venuto in europa no festival non credo forse tipo download ma quello non c'entra slam dunk ma c'erano artisti americani si poteva venire in qua non so forse comunque ho visto che ho visto per mai si è un bel duvetto la loro sono nati però visto che erano paese credo credo sì 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 e no comunque visto che si sta spostando diciamo machine gun kelly sta andando un po a parare verso tutto quello che è quel mondo non so come lo chiamate voi quel mondo di cui fanno parte di slipknot di cui fanno parte i corn di adesso i pod piuttosto che i seven dust i boomer ma intendi a livello musicale a livello musicale sono le band a livello musicale sta facendo il blink male tipo a livello proprio di audience sta andando un po a parare su quell'audience di rimastini del 2000 tipo eh sì sì di quelle persone che parlavamo una volta quelle persone che una volta ascoltavano il sistema i semi brutal tipo quelli delle colonne dei servizi del tg in america in america lo chiamano bat rock perché la storia viene fuori dal dalle radio che dicono we play nothing but rock fuorché rock e allora ci sta aggiungerci una te una te esatto è il classico è il classico sound che va di moda tra i gli ex militari e i studisti con il pick up con scritto make america grid again si sta spostando su quell'audience lì non si capisce come mai e di prima le motivazioni di studi singe poi ti dico la mia sul perché sembra che ci fanno comunque ci fossero già delle ruggini tra tra di loro no sembra che comunque durante la stesura di di ticket to my downfall ci fosse profetico come titolo tra l'altro esatto esatto fosse stata quest'idea da parte di machine gun kelly del suo entourage penso di quel disco tra l'altro travis sì penso fosse stato perché no ci ha suonato anche però era lui che ha scambiato l'email con corey taylor praticamente penso travis avesse pensato che sarebbe stato figo avere corey taylor come fare un come guest lui ha mandato il pezzo c'è la sua parte però poi si è reso conto che non non ci stava no no non ci stava su su quello che era musica e ha detto guarda per me non va bene se trovate qualcun altro meglio vi auguro il meglio tutto quanto e la risposta era era stata appunto diversa cioè nel senso che però c'era c'era stato anche in un'altra intervista di corey taylor che aveva detto sì non capisco sta gente che passa da rap ok sapete sapete chi sto parlando quindi c'è in realtà da quel punto di vista lì l'ha un po fatto partire lui il dissing tra virgolette però no ma anche la storia di delle mail l'avevo capito diversamente io ho capito che in realtà lui l'aveva fatto sto featuring e che inizialmente fosse anche mezzo piaciuto poi però forse proprio lo stesso machine gun kelly aveva risposto suggerendo delle modifiche che corey taylor non aveva tra virgolette accettato perché lui dice vabbè la roba io la faccio come suona bene a me se no vi trovate qualcun altro ma è mega tranquillità può anche essere io ho letto solo le email che aveva pubblicato così forse anche io l'avevo capito l'avevo capito come come la storia di ricco però non ho capito se poi è più logico comunque in cui quell'intervista di corey taylor non ho capito se era successiva o antecedente a questa storia non l'idea sono può essere perché anche lui non è ok esatto la lingua però la differenza è che lui comunque si è espresso sempre nei termini della musica cioè quindi ci può stare anche se magari la pisciata fuori dal vaso di dire lui sa di chi sto parlando vabbè quella magari però ecco ritelo ecco ritelo sì però quell'altro dice sì esatto dì non mettermi una maschera esatto quindi travesti se vuoi parlare di musica è un conto se vuoi metterla su sto piano secondo me fai la figura proprio del del bambino cioè nel senso si vede che non hai argomenti nel senso certo però tornando alla domanda iniziale di di ale che chiedeva perché sta andando a parare da da quel genere musicale se possiamo considerarlo così è perché si becca sempre le tramvate da chiunque viene distrutto su qualsiasi cosa cioè fai rap e lo fai male e dai contro a eminem e ti distrugge vai lì a cos'era gli oscar cos'era e tenti di fare risa con conor come grego se ti becca se ti becca ti distrugge vai contro corey taylor non so chi è il prossimo che può essere il prossimo cioè se no è un masochismo se se lui vuole andare a parare su quel tipo di audience cazzo mettersi contro uno come corey taylor poi come avete come me avete anche mandato voi comunque alla fine inneschi dei meccanismi strani perché poi corey taylor comunque è uno che in questa scena c'è da vent'anni hai visto che ad esempio il tipo dei trivium limit ha rilasciato anche lui un'intervista pro smerdandolo cioè lui proprio cioè vai un po a a farti a tirarti la zappa sui piedi no e sembra un po a tratti mi ricorda un po tipo fred durst a inizi carriera cioè che anche lì se ne tirava addosso tutte però secondo me finirà come kid rock tipo quindi c'è proprio rock becero o quello che sarà il prossimo trend visto che comunque sì però allora non lo so perché sai qual è il discorso che comunque secondo me questa volta a livello musicale si è salvato perché comunque dietro avrà terris barker perché certo però ci sa però ok è stato diciamo il primo a fare questo nuovo revival no però se senti tutto quello che è venuto dopo è 300.000 volte meglio perché sto qui è monocorde cioè non si si non ha la voce lui è una voce terribile quindi si fai fai le pubblicità per gucci armani cioè non si si sono d'accordo andrà a finire lì andrà a finire lì e c'è comunque alla fine c'è quello che si merita no o goditi la moglie tu eh cazzo e poi c'è oltretutto per spezzare un'altra lancia a favore di Corey Taylor cazzo cioè lui è un boomer ma è un boomer nel senso che è un boomer nel vero senso della parola ci sta che che tiri fuori di quelle cagate del tipo eh non mi piace non mi piace la musica nuova e noi eravamo meglio certo però c'ha 50 anni no sicuro però poi fa uscite cringe anche lui quando dice si no che enter sandman della stairway to heaven o lo smoke in the water dei giorni nostri che comunque secondo me era giovane però boh non so cioè non lo vedo tanto compato come canzone perché se vai a prenderci sono quelle canzoni che sono a livello di gente comune che non ascolta il genere e quella gente lì cosa ti sa killing in the name of the rage against the machine ace of space dei motored e i cdc però è metallica non è proprio quello il pezzo secondo me che no 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 assolutamente però dico come come cioè se prendi smoke in the water si è un riff basico che ci sta riconoscibilissimo ci può stare stairway to heaven è un po' più complesso cioè per stairway to heaven penserei a qualcosa di più più intricato beh dipende bisognerrebbe andare in un negozio di strumenti e vedere che cosa suonano i ragazzini perché sai che è sempre quella ci sono dei negozi di strumenti dove è vietato suonare stairway to heaven wayne's world wayne's world a parte che adesso adesso vorrei proprio capire cosa suonano i ragazzini cazzo perché soprattutto se vanno nei negozi di musica paradossalmente sono gruppi come maneskin che li fanno tornare la voglia di prendere in mano a uno strumento piuttosto che creare basi sul computer quindi qualcosa di buono lo fanno ma io non ho un po' io mi sono sempre l'espresso a favore ai maneskin eh nonostante tutto vabbè fanno il loro sì hanno il loro successo e che se lo godono cioè non è niente da sputtare assolutamente niente contrario no no poi comunque c'è sempre esistita questa cosa qua no c'è sempre stato quel gruppo che comunque viene viene preso sotto la protettrice di qualcuno viene portato sì ma è normale che sia così eh è un po' è un po' che mi faccia anche dentro i sbarchi alla fine esatto chi non ci arriva è perché è incazzato che non è non è lui il prescente diciamo che vorrebbero avere avere lo stesso successo esatto allora eh dai passiamo passiamo oltre tanto questa l'abbiamo sviscerata abbastanza cioè abbiamo capito che comunque alla fine c'era qualcosa dietro lui è un coglione e se l'è cercata eh come vi dicevo oggi nell'ultima settimana soprattutto mi è capitato di leggere in rete un sacco di gente triggeratissima eh per il discorso otto hairstyle e ci sono rimasto anche sono rimasto anche stranito eh qua intanto salutiamo un po' di gente in chat ah grandi ragazzi ah 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 grandi ragazzi cos'è un tegolino? ehm no no sono dei miei colleghi sono rimasto stranito ah ok ah ecco che hanno iniziato anche a seguirmi quindi grazie mille ai tuoi colleghi sì sono rimasto stranito per questa come vi scrivevo oggi per questa cosa qua perché eh sì è un disco particolare è un disco magari non eh propriamente hardcore o però cazzo c'è non è che è arrivata non è non è una un meteorite che ci ha colpito e non sapevamo da dove cazzo stessa arrivata no ma appunto anche perché fanno sta roba soprattutto poi per carità magari prima le radici le tenevano un po' più salde nell'arcore adesso hanno spaziato un pochettino più avanti però ragazzi cioè certo però gli anni 90 l'hanno fatto tutti sì ma è la diretta prosecuzione di quello che l'ha detto prima sì 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 esatto quindi non è che che poi io tutti vogliono il nuovo il nuovo il nuovo e quando arriva non si fa così quando hai scritto questa cosa stamattina io cioè veramente ti ho quotato subito perché comunque è vero cioè rompono tutti il cazzo questa storia qua quando arriva il nuovo alla fine è nuovo dovevano rimanere in gruppo hardcore che poi a me sto disco qua come concept ha ricordato tantissimo è in transmission degli snap case sì sì ci sta è un disco di rottura tra virgolette che comunque rimaneva hardcore ma io me lo sono mangiato quel disco e sto facendo la stessa cosa che di turnstile certamente diciamo che secondo me addirittura vai vai mike che sì paragonato a quel disco cioè quel disco rappresentava quell'epoca lì quindi aveva le influenze esterne di quell'epoca lì invece i turnstile comunque hanno le influenze che ci sono adesso certo poi anche hanno un lavoro di produzione dietro perché hanno cazzo c'era il produttore era quello di one direction tipo quindi cioè non è che hanno preso l'ultimo degli stronzi e poi sono su major eh quindi beh sono Roadrunner quindi Roadrunner sì 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 come quello prima però ci sta però non è una cosa traumatica come sempre su Roadrunner prendi gli Angel Dust che sono sempre loro di mezzo sì che hanno fatto dischi tiratissimi poi firmano per Roadrunner e fanno una roba tipo Lemones e Oasis cioè quello è un cambiamento cosa sai su sto disco i pezzi turnstile ci sono perché certo bene o male fanno sempre quello cioè i pezzi quelli tirati sono sempre quello alla fine però c'è sono freschi hanno sai c'è quella spruzzatina di produzione lì l'elettronica e tutto quanto per esempio anche i singoli prendi i singoli poi hanno fatto uscire 7 singoli su 13 canzoni che ci sono cioè presi singolarmente magari dicevi eh così invece ascoltandoli cioè esatto hanno loro perché queste cose le come si dice le colgo spesso anch'io perché in tanti dischi mi è capitato di sentire i singoli dire boh ma non lo so però nel contesto di un di un disco effettivamente effettivamente tipo per esempio mi vengono in mente non so se vi ricordate qualche tempo fa qualche annetto forse a sto punto eh anche gli Alex Seasonfire avevano fatto tre singoli che di cui due mi ricordo che mi avevano fatto presente ribaltare dalla sedia e uno mi ricordo che era uscito era un pezzo un po' lento un po' e mi ricordo che lì ho pensato alla stessa cosa ho detto boh magari è un pezzo che nel disco funziona mi ha sentito così quello quello dei tour style è vero quoto anch'io il disco funziona da paura perché comunque c'ha quegli stacchi un po' più un po' più dream core un po' più c'è questo concept del sogno del questa cosa un po' onirica e poi c'hanno i pezzi un po' più tirati che invece rialzano un po' il ritmo quindi funziona tutto a me invece di di end transmission degli snap case mi ricorda quello dopo live revolt forse si chiamava bright flashes sì o bright flashes eh no bright flashes bravo quello dopo che era forse più più concettuale più ragione no forse anche perché non so se vi ricordate ma l'artwork era un po' simile sì cioè la tradizione era tipo anche lì su rosa quella cavolo ce l'ho da qualche parte qua la voce la voce ce l'ho la voce sì no beh ma allora le radici sono quelle le radici sono quelle e ci sono ancora certo no 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 se senti i pezzi tirati hai snap case vision of disorder quel tiro lì secondo me sono gruppi che ricordano di più quelli lì però ragazzi pezzo preferito come si chiama non mi ricordo i titoli però è quello che chiude ma parte che non so i titoli dreams no ah ho capito sì non mi ricordo come si intitola ma ho capito qual è perché poi se prendi cosa c'è holiday a me piacciono dei misteri però quello è un pezzo è misteri holiday sui pezzi che trovi anche su come si dice times and space prima su i cancellioli su non mi va a dire lì comunque si che poi a parte diciamo il primo set che era proprio totalmente hardcore aveva già iniziato a sperimentare da quello dopo quindi gli album erano sempre già più anni 90 ma anche soprattutto come concept quelle robe tipo da spiaggia o richiami anche a me ricordavano anche gli ugly key joy in un certo senso sui certi punti quindi c'era questo questo spaziare che ma invece c'è un pezzo che a me sembravano tipo i tear for fears cioè robe sì 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 perché perché usano quella batteria come si chiama lato e 808 che è tipo una drum machine che ha quel tiro anni 80 proprio sì sì proprio 80 esatto il pezzo quello che inizia police è esatto vedi assurdo vedi c'è assurdo ed è questo secondo me perché secondo me loro danno fastidio perché hanno trovato il modo di essere originali pur non essendo originali perché sostanzialmente non può inventare più niente e poi hanno fatto hype quindi la gente parla 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 e alla gente dà fastidio quello perché per distinguersi dalla massa no che merda era meglio una volta ma ci passano tutti quei gruppi ci sono passati tu scemo re ci sono passati la dispute tutto quel giro sì sì senza altro comunque per fare solo no dicevo ho interpellato un po' di un po' di gente che conosco Paltimora perché per un lavoro che facevo precedentemente ci andavo spesso di là tra l'altro peccato non conoscere Return Style all'epoca se no magari me li andavo anche a beccare e sono tutti un po' boomer i miei colleghi di là quindi non è che li conoscevano bene bene però uno solo mi ha risposto che li conosceva per alcuni disordini che aveva sentito che erano successi ai loro spettacoli Madonna che risposta da boomer questa da boomer no beh ma però effettivamente se vai a vedere tutti i video dei loro concerti quelli grossi che sia Visi Sarkor oppure anche robe lì a Baltimore e tutto è sempre un macello il loro concerto cioè e tanti dicono che poi tra l'altro fa ridere perché tanti dicono che se vai a vedere i live loro sì è palestra cioè palestra palestra si diverte non suonano neanche cioè però qualcuno dei boomer boomer dice a me piacciono questi perché questo era lo spirito che c'era una volta cioè si si arriva sul palco e si faceva casino poi quello che esce fuori esce fuori poi dispetto di tutto Baltimore è una città davvero un po' wild ci sta quindi cioè capisco anche il contesto in cui nasce sta cosa e ci sta dicevo vai a vedere i live fa specie perché eh anche a livello live la gente che li va a vedere sembra uscita dagli anni 90 cioè eh non so come spiegarti cioè li vedi lì davanti l'altro giorno guardavo un live e ce n'era uno davanti quando avete presente quelle eh eh videocamere che c'erano una volta ah è grande la VHS una di quelle cioè ma cazzo ma questo è uscito dagli anni 90 in pieno comunque facendo c'è solo per mettere un po' di contesto no? perché molti ehm che ascoltano i turnstile adesso eh a non sanno da dove vengono i turnstile ma ci sta nel senso che uno non è può sapere vita morte e miracoli tutti i gruppi che escono e b non sa eh da dove viene quello che stanno suonando adesso i turnstile allora i turnstile innanzitutto nascono nel 2010 quindi hanno 2010-2011 quindi hanno 10 anni non sono proprio nati l'altro ieri e sono un side project dei Trapped Under Ice che sono un gruppo tra l'altro un altro grande hardcore hardcore classico però hardcore alla Cranul Torts per dire diciamo più New York hardcore poi sono cambiati pure loro però sì sì all'epoca poi suonavano quello e sì sì Yates il cantante era il batterista di questi Trapped Under Ice hanno deciso di fare questo side project all'inizio era proprio una roba eh così non c'era non era idea di fare una band eh stabile vogliono fare un disco hanno tirato fuori questo EP eh e questo EP ha fatto ha avuto un hype pazzesco che poi era un demo quella roba di secondo quello che dicono loro ha fatto come non so se è Pressure to Succeed o comunque sì quello quello lì sì Pressure to Succeed deve essere e e da lì poi ovviamente hanno hanno pensato di prendere allora la palla al balzo e hanno detto boh se la cosa piace piace continuiamo no e comunque eh per tutti quelli che non sono avvezzi con questo tipo di sound eh ragazzi cioè andatevi a ascoltare l'arcore che nasceva eh diciamo dalle ceneri del del primo arcore new yorkese quindi dei primi anni 90 metà anni 90 eh a New York si faceva sta roba qua perché se tu vuoi ascoltare gli Shelter di Here We Go facevano sta roba qua tu vuoi ascoltarti eh che ne so gli Helmet facevano sta roba qua o gli Orangelo e gli Limetri facevano sta roba qua i Leeway facevano sta roba qua Biohazard anche volendo i Quicksand alla fine hanno iniziato poi per carità erano più cupio tutto quello che vuoi però diciamo che il mood era poi questo no si andava verso questo alternative rock sì con venatura al corno che bello ragazzi ma vorrei sbagliarvi domani mattina e essere nel 94 proprio adesso io spero che spero che non ci che non ci no comunque avevano fatto una storia simile anche il Comeback Kid Figure Four mi pare no che in realtà erano nati prima Figure Four sì questi sono i Leeway adesso vabbè ovviamente i suoni sono i suoni degli anni 90 però i Leeway facevano strano sì facciamo un po' cioè cazzo questa roba è che bella cioè questa è la roba che fanno loro adesso sai che ci metto anche soprattutto primo primo album anche per come era il concept Living Color ah i Living Color anche sì perché avevano quel groove e poi tutto quell'immaginario tipo spiaggia cioè quelle robe come si chiama quell'artista New York Key Faring sì quello che è lui quel tiro lì e ci sta e quindi non è una non è una cosa che hanno inventato adesso cioè non hanno inventato niente ma anche il sound non è una cosa che pensavo come si chiama le viste i voice è boh ma lì era già questa qua anche questa sentiamo aspetta cioè alla fine il mondo è questo no sì questo hardcore un po' groove un bel po' di groove la voce pulita comunque assomigliava anche a Giulio Andreotti l'ombra della prima repubblica secondo me prova a mettere quello ce ne viene i video suggeriti lo so dov'è dov'è ah sì eccolo qua Giulio Andreotti l'ombra della si ci sta no ragazzi comunque sì alla fine il mondo è quello e secondo me loro comunque un altro fattore un altro fattore importante per il successo che hanno avuto è come diceva Mike è questo questo senso estetico loro hanno proprio fin dai primi dischi hanno proprio questo hanno preso questo filone di adesso noi chiamiamolo Haring però questa roba molto colorata molto anche lontana da quello che era il mondo hardcore da quello che era sì è top come dire esatto e l'hanno miscelata un po' con tutto quello che era il mondo da cui venivano è venuto fuori questo prodotto che è abbastanza particolare io dico a livello visivo poi a livello musicale come abbiamo visto questa roba si faceva già dieci anni fa quindici anni fa venti anni fa certo però c'è anche da dire che non è che hanno inventato questo ritorno agli anni 90 perché ci avevano già pensato a gruppi come Basement Title Fight di Superhaven che avevano ripreso quel grunge alternative rock anni 90 quindi penso che loro abbiano preso appunto ok noi facciamo questo tipo di hardcore andiamo avanti su questa linea e fichiamoci dentro tutte queste influenze che non vuol dire fare un copy in colla di quello che era era assorbire ed è così che dai il suono no no esattamente poi sai nel non so io oggi pensavo un po' al discorso della coerenza no non so cioè ci sono alla fine non la cosa migliore secondo me nella musica è io dico affezionarsi però non è neanche forse il termine giusto ma non è non troppo affezionarsi alla band di per sé al suono di una band perché poi dopo quando succede che ti cambiano rimani un po' spiazzato bisogna sempre cercare di stare un po' aperti o poi diciamo se non sì devi essere mentalmente aperto più che una questione di affetto perché cioè se hai già influenze esterne verso quelle che tendono loro dici ok perfetto cioè il territorio amico però magari sai sentire critiche che non stai da gente che ha scoperto gli agnosti prompt che sono passati da hardcore brutale a crossover a qualcosa di metallico per poi tornare a un punk koi per sì hanno cambiato il genere su ogni disco quindi c'è coerenza cioè che poi la gente deve anche pensare deve anche pensare che se suoni non puoi suonare cioè o se gli esi di sia i Pennywise oppure comunque uno matura no e dopo un po' si rompe i coglioni anche di suonare sempre la stessa roba quindi tentano le cose magari sbaglia anche la band di cui parleremo dopo vabbè quella è che poi ci sono anche questioni cioè noi non ci pensiamo mai però ci sono anche questioni di business ogni tanto alla fine questa è la gente che fa quello di lavoro non dico che devi seguire per forza le mode però comunque sai poi il mercato a volte ti porta anche in certe direzioni non è neanche detto che poi tutte le scelte quello dipende non lo so questo non è con i turnstile bravo anch'io secondo me loro vogliono fare quello e lo fanno adesso sono sotto Rodran hanno il budget e ha detto boh becchiamoci sto produttore facciamo il coso con Blood Orange facciamo il featuring con questo cioè poi paga la scelta perché c'è un osare che ha pagato un po' il coraggio a me vengono in mente che vende tipo i tries cioè che caspita beh loro sicuramente non l'hanno fatto per questioni commerciali perché anche diciamo roba tipo dischi centrali tipo Alchemie Index e robe così quella non è roba che secondo me non è roba che vendi cioè no assolutamente Vaysu quelle robe lì sì sì ma anche quelli dopo perché Vaysu ancora ancora aveva qualche venatura che poteva piacere magari un po' ad alcuni fan di vecchia data però poi lì dopo abbiamo più tipo ambiente così cioè mi viene in mente tipo il salto che hanno fatto tipo anche i Radiohead sai anche chi gli è e fai se vogliamo restare nella parte esatto bravo sì 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 ma perché secondo me dopo un po' sti gruppi cioè i Ten Style sono al terzo album ok gli E-Fi sono ormai al decimo così dopo un po' penso che questi dicono ok cioè non solo abbiamo detto ora facciamo quel cazzo che vogliamo cioè possiamo farlo cioè lo stesso discorso vale per i Converg i Converg da quando è che non fanno un disco decente però sanno che qualsiasi cosa fanno hanno la fanbase che li compra tutto c'è anche l'ultima roba che hanno fatto uscire con Chelsea Wolf potenzialmente potenzialmente vedi due nomi che dici cazzo potrebbe uscire qualcosa di bello invece uno smaronamento di sette minuti merotti cioè almeno per me poi magari gli fan sono però però io sono andato a vedere allora ho guardato ve l'ho mandato l'altro giorno l'ho guardato e ho detto adesso vado a leggermi i commenti e ho pensato nei commenti gli segheranno le gambe e invece minchia uno più entusiasta dell'altro il commento cioè sembrava veramente che avessero minchia si segavano a tre mani cazzo ma esatto nel suo piccolo un po' anche l'ultimo degli offspring cioè non è piaciuto a nessuno ma se tu vai a parlare male di quel disco lì c'è la gente che ti salta addosso cioè io lo faccio volentieri perché cioè si vede ciao Loris ciao si vede che è abbozzato a caso tipo quindi sì ecco esce tutto quindi non sono solo sette minuti c'è l'album intero l'album intero ma non so se sarà tutto con il film mi pare di sì perché perché quel progetto lì si chiama Blood Moon mi pare era un tour che portavano in giro qualche anno fa che appunto era con Chelsea Wolf e non so chi altro ma non c'erano anche i Kevin in mezzo a sta roba qua sì 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 esattamente perché c'è cosa Steven Brodsky dentro questo progetto quindi sì mamma mia ma stavo pensando una cosa su queste su queste band ci pensavo oggi ascoltando l'ultimo The Vermeer Horizon cioè quando quando succede questo nella storia di una band cioè questi cambiamenti così radicali cioè adesso esco un po' dalla questione perché comunque come abbiamo detto sì sì ma io volevo già introdurre la The Vermeer Horizon stai introducendo bene cioè secondo voi a un live cioè quanto è producente sta cosa cioè secondo me rischi di dividere la tua stessa fanbase e cioè trovarti davanti gente che dice boh non vengo perché fanno i pezzi vecchi ah ma però mi fanno schifo i pezzi nuovi cioè allora dipende tanto da quanto è polarizzata la tua fanbase perché tipo secondo me come diceva Mike prima i Convert potrebbero anche fare un disco in cui cagano dentro la tazza del cesso e tirano l'acqua e avrebbero comunque la gente che gli compra i vini le maglie tutto quello che vuoi altri non lo so i Bremier Horizon in questo momento mi danno l'idea di uno di quei gruppi che se domani facessero un disco con Ariana Grande venderebbero tanto quanto svendono anzi più di adesso ma lo farebbero anche sì a parte che vendono da sempre però anche in suo caso cioè non è un cambiamento così che ti cade dal cielo anche perché sì esatto dal terzo album in poi che iniziano a fare il Linkin Park col testosterone per poi finire su tutte le robe cioè diciamo che c'è la loro bravura sta nell'azzeccare il trend che tira a farlo bene e continuare a tirare su gente e non perderla cioè magari hai perso quelli che li ascoltavano quando facevano un deathcore perché ormai secondo me la domanda che hai fatto all'inizio cioè la roba cringe dei loro live è sentire i pezzi vecchi fatti con lo stile di adesso eh esatto cioè capisci cioè per quello che dico non lo so non è che non è che dico che le scelte di una band devono essere condizionate da questa cosa perché comunque tu fai quello che ti viene però cioè non so com'è che la può prendere la fanbase ecco probabilmente come dice Ale nel senso che se veramente è una fanbase che è talmente attaccata che tra virgolette ha le orecchie foderate di cartone nel senso che comunque cioè qualsiasi cosa che gli proponi va bene perché sei il primo di Horizon è un conto però ce lo so io mi ricordo che l'unica volta che ho visto i trice dal vivo sono rimasto delusissimo perché era il tour di promozione di Jason ho fatto pochi pezzi vecchi io mi ero attaccato con la roba lì e dopo i trice non erano più ascoltati però mi sono molto scesi cioè però penso che nel caso di Bring Me The Horizon c'è la spaccatura sia primi due album quando fanno Dead Core poi hanno fatto quello sui Side Season e poi dal terzo in poi bene o male hanno avuto i cambiamenti però la linea è quella cioè sono diventati più melodici più commerciali e quindi la fanbase è quella cioè io i Bring Me The Horizon gli avrei sarei andato per dire a vederli nel periodo in cui hanno fatto quel concerto con la Royal Albert Hall con l'orchestra dietro di così vedi lì è una cosa bella e coraggiosa bene che l'abbiamo fatta poi dopo per me forse non so sono usciti un po' da quello che è il mio radar musicale però il discorso qual è? che loro lì sono passati da band di settore a band mainstream perché comunque adesso se tu vai sul catalogo di Amp Italia non trovi le magliette dei Turnstile trovi le magliette dei primi di Horizon i primi di Horizon Slipknot Metallica e Pantera ha detto tu le membre ecco in questo caso possiamo parlare di scelta pilotata dalla vendita dal mercato non lo so sai perché dei primi di Horizon io non sono neanche convinto qua no perché comunque secondo me è stato un cambiamento graduale perché non è che hanno fatto un album trap un album dubstep un album che poi avevano fatto il cd di remix dubstep sì l'hanno fatto anche il season più verde loro comunque sono sempre a parte forse il primo disco quello dove c'è quello Deathcore praticamente sì Count Your Blessings Count Your Blessings a parte quello gli altri dischi comunque se tu li vai a vedere sono sempre stati particolari sono sempre stati avanti rispetto a quello che si faceva tutti li hanno sempre un po' rincorsi io mi ricordo quello dove Celesi Smile era un disco più avanti rispetto agli altri c'era dei pezzi che erano dentro c'erano esatto secondo me ancora di più quelli dopo poi si sono spinti sempre più avanti si sono spinti sempre più avanti e gli altri gruppi hanno sempre cercato gli altri gruppi diciamo che facevano quello che facevano loro quindi gli altri gruppi diciamo nel panorama Metal Core Gent Core i Wild She's Leap esatto hanno cercato di però tipo i Wild She's Leap si sono spostati completamente in questo Linkin Park testosterone che fanno un po' tutti i gruppi Gent Core adesso che hanno ripreso un po' questa moda del è quello che hanno fatto i Bremio Horizon col terzo album solo che l'hanno fatto prima di loro sai cos'è secondo me però la cosa fondamentale è che lui non poteva più urlare secondo me ha cambiato genere anche per il fatto che lui non teneva dal vivo lo scream quindi perché canta anche bene canta anche bene pulito canta molto meglio adesso di come cioè una volta invece di fare come un show rude che avrebbero cambiato cantante esatto beh gli è andata sempre bene una botta grossa gli è data io live li ho visti un paio di volte e secondo me è una botta grandissima gli è data il come si chiama il percussionista tastierista strumentista che hanno preso perché il batterista del primo io me lo ricordo come un cane fatto e finito cioè veramente un cane live sì no veramente scarso e poi ero andato a vedere non di di quello dove c'è Chelsea Smile ma quello dopo Sempiternal Sempiternal può dare sì comunque sì era un tour hybrid theory tipo sì lui si è presentato con una tunica bianca sai che Sempiternal ha quel diagramma quel sì sì quello sì sì non so se ce l'ha tatuato comunque ce l'ha sulle mani ma era prima quello o quello dove c'è il Derizal quello lì ah no 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 giusto giusto quello lì Derizal believe me sì quello lì il tour di quello ho visto e nel tour di quello c'era già il percussionista oh da così a così eh ti giuro non sembravano più i primi di Horizon dai li ho visti solo prima un po' di volte tante volte purtroppo oh però non so se l'avete visto le chitarre signature di Limalia non so mica male eh le Epiphone quelle di Tom Morello no no proprio le Limalia signature fatto da no quelle di Tom Morello no è cazzo non so male le chitarre lì però tra l'altro lui lui è l'uomo con la faccia più grossa che esiste madonna ma poi veramente ma loro tutti sono veramente brutti cioè vabbè Oliver Sykes non è così brutto ma quello lì 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 è veramente brutto eh sì è un porcellino è un porcellino comunque come si faceva da piccoli no ripeti veloce Limalia 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 no sei troppo cattivo dai comunque ritornando un po' alla notizia no per quelli che magari si vedono il video da qua e non capiscono di cosa cazzo stiamo parlando in sostanza i Brimmini Horizon hanno tirato fuori questo nuovo pezzo che si chiama come si chiama già Dai For In Ostir si Dai For In quanto è reso non so se avete notato sta cosa praticamente è reso tipo con le maiuscole le minuscole che veramente secondo me è una cosa mega cioè non so come dire esatto proprio TikTok generation TikTok generation in pieno social 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 in pieno secondo me è una cosa fastidiosissima però vabbè sì però cazzo quelli che hanno 15 anni vedono quella roba lì vanno fuori di testa eh lo so vedono cioè è proprio il loro linguaggio quello capisci anche il 4 per 4 cioè è proprio vabbè ma quello scusa Alt Alt quello l'ha inventato Prince ah beh no per carità per carità di Dio solo che poi da Prince in avanti non l'abbiamo più usato invece se frequentavi le chat di Mirk sì però sì grande rc cavolo eh sì penso che magari ci siamo anche beccati non lo sapevamo Mike probabilmente qual'era il tuo nickname all'epoca mi ricordo neanche io ne ho cambiati tanti Maya Lee Lee Maya no ma non esistevano neanche i Birmingham esatto penso che io mi ricordo che i Birmingham le avevo scoperti perché avevano fatto da spalle i Caliban in un tour e mi ricordo che avevo iniziato a cagare da lì cazzo tra l'altro il cantante di Caliban mi ricordo che mi aveva fatto impressione era grandissimo mi aveva fatto impressione perché era sminchiatello quando l'ho visto io all'inizio era sminchiatello ma proprio sminchiatello sminchiatello ma lui sembrano zombie cioè da sempre nel senso è proprio vabbè comunque niente praticamente i Birmingham hanno tirato fuori questo questo nuovo pezzo e per descriverlo a chi non l'avesse ancora sentito andate a sentirvelo è un po' come se Post Malone cantasse su un pezzo di Machine Gun Kelly con gli Architects che suonano dietro perché io pensavo scusi io pensavo Sfera e Basta che canta sopra un pezzo di DJ Axe no di Coez di Coez però con con gli Appombi che suonano dietro sì anche con gli Appombi in generale lui lui voce super prodotta alla Post Malone proprio super spiccolata il pezzo è un pezzo alla fine buona parte del pezzo è pop punk sì ma allora catchy esatto catchy perché a me non piace neanche definirli pop punk non lo so è veramente una roba sì catchy pop non so come definirla ma mi sa proprio tanto di plastica cioè non lo so e dietro ci sono queste chitarre un po' gent alla Architects perché comunque vabbè chiunque faccia gent core adesso è perché è perché sta scimmiotando gli Architects alla fine sono loro che non dico che hanno inventato il genere ma l'hanno diciamo portato alla rivalta ma molto light però non aspettatevi gli Architects molto light il video dura tipo dieci minuti è un video iper prodotto sembra un film un cortometraggio con vampiri e robe un po' alla Veskraven però vedi da quel punto di vista ci sta perché questo è un ritorno agli anni 90 quando avevi video tipo che ne so Always di Bon Jovi o Ryan degli Aerosmith che avevi la storia dietro ed era bello vedere non il solito gruppo che suona in mezzo ai boschi o della fabbrica di messa no no video fighissimo super cioè fighissimo nel senso prodotto super bene vabbè ma il prodotto loro cazzo è confezionato da paura ma ci mancherebbe hanno dietro la NASA che li produce voglio dire ci sta che comunque ci si è anche questo ritorno qua dai cioè il video era proprio figo dai no no il video fighissimo e comunque niente la canzone da quello che si evince dalle interviste parla del periodo che ha passato Oliver Sykes lottando contro le sue dipendenze adesso io non ho ben capito neanche quale sia stato questo periodo si è anche da un po' che ne parla di queste robe uguali si eh sì i grandi classici i grandi classici bravo e lo fa lo fa con una specie di vampiro preso benissimo che balla è un po' cringe il vampiro però ci sta ho il video il video mi hanno fatto cioè non li ho mai seguiti tantissimo devo essere sincero però hanno quelle cose che boh mi attirano la mia attenzione ma poi quando ascolto il disco non riesco mai ad arrivare alla fine tipo cioè frasi come we will never sleep because sleep is for the wake now we will never rest in the world che cazzo ma cioè veramente io la scriverei cioè per me è un inno nazionale te la puoi tatuare capito ma anche però sai cosa lì sì ma lì è proprio che è anche come l'hanno messa giù musicalmente no che c'è il coro dietro che ti gasa però sì ma proprio non so a me le parole veramente la prima volta che l'ho sentito ho detto minchia ma che cazzo sono questi qua ma cioè sono i numeri uno poi ho ascoltato il disco e figa sai che non riesco ad arrivare alla fine dei dischi boh pezzi troppo lunghi non so recentemente per diciamo pre live mi sono riascoltato del israel e cioè ho sentito il primo pezzo cioè quando è finito ho detto minchia ma cosa hanno ancora da dire cioè è un pezzo che dura sei minuti e c'è tutto c'è il metal c'è l'elettronica c'è il pezzo con la chitarra acustica c'è tutto quando è finito il pezzo ho detto bro e adesso cioè cosa c'è ancora posso mettere un pezzo folk hai capito ma ho spento perché ho detto boh basta dai però però penso che appunto arrivati a questo livello di mainstream che hanno loro sembra un po' anche il livello che avevano certi gruppi anni 90 nel mainstream che avevi l'album che avevi i 4-5 pezzoni e poi gli altri che hanno riempitivi no? invece in quello di Teno Style per dire hai tutto un'omogenità del non ci sono skip track non so come dire boh esatto però non è un disco che impari a memoria però è fluido dall'inizio alla fine invece magari Brim e Horizon hanno i pezzoni e poi hanno i riempitivi perché allora ti dico vero ma su di me quello di Teno Style ha avuto un effetto particolare nel senso che era veramente da un sacco di tempo che non mi capitava che dei riff mi entrassero così tanto in test no ma assolutamente guarda io ti dico le prime due settimane che l'ho avuto l'ho ascoltato almeno due volte ogni giorno adesso ho un po' calmato però perché rischi di tipo saturare la cosa magari schifarlo però c'era una roba che metti su perché è anche corto no sì sì non hanno pezzi lunghi dove magari Brim e Horizon i pezzi di sei minuti togliendo i dieci minuti video che dopo un po' dici oh e qui qui torna citando il buon Cantelli Rock Opera no esatto se superi i due minuti altro che Rock Opera ragazzi sì sì qui è proprio trilogia Signore degli Anelli stesse cose il buon coppo nella recensione che abbiamo fatto dei time style su Irritated People che sta dicendo Gian Camuno qui deviando un secondo che ha rifatto sì sì l'abbiamo visto vero vero molto vero e questo secondo me secondo me questo dimostrato a tutti i detrattori di Post Malone che dicono sia autotune di qua autotune di là c'è un vocione cioè per aver fatto quei pezzi di Nirvana un vocione secondo me se lui si mette a fare rock senza autotune perché è anche bravo a suonare lui sì lui è bravo anche a suonare la chitarra è un background insomma e non a caso è finito sul disco di Ozzy Osbourne e tra l'altro sotto quel video lì io vi invito ad andare a riprendervi quel video lì perché c'è il commento più bello che abbia mai letto su internet soprattutto su Post Malone c'è un tipo che dice Post Malone è l'unica persona al mondo che riesce a sembrare un mega ricco e un senzatento allo stesso momento ed è vero perché se tu lo guardi quel video lì c'è dietro tipo i mitragliatori d'oro in questa casa super figa e lui cazzo sembra un barbone come conciato ma sì perché si sbattano perché si sbattano cioè quello lì secondo me è lo stare true alle due origini no? che c'è anche se ti becchi la facca di soldi sei sempre tu sì cioè poi magari li spendi per quello che ti piace però cioè non per forza devi vestirti pagliaccio ecco lì secondo te Post Malone allora quanto in percentuale la sua musica quanto è marketing e quanto è Post Malone pensiero? secondo me è tanto marketing purtroppo perché il potenziale per fare roba figa figa cioè figa veramente cioè a me piace molto la sua roba però c'è sentirlo in quello streaming lì dove fai i pezzi nirvana e dici cazzo cosa potrebbe fare no? eh sì adesso però già l'ultimo che si chiama Hollywood qualcosa lì ehm sì sta un po' sminchiando tutto la trap stupida che aveva nei primi due dischi cioè già più cupo quindi magari io io è uno delle è uno dei pochi cioè dei pochi poi ce n'è di artisti adesso non mi vengono in mente comunque è uno dei primi artisti che mi viene in mente che non riesco a collegare eh la sua persona a quello che a quello che che tira fuori musicalmente cioè mi sembra veramente scollegata un'entità dall'altra non lo vedo io quando l'ho visto suonare quel quel concerto di quel live lì ho detto cazzo ma questo per me è lui no? cioè lo vedi mi sembrava lui nel suo cato nel suo personaggio in se stesso invece quando poi ascolto i dischi cioè buono io non riesco a apprezzarli ma io personalmente non dico che però secondo me sai cos'è anche che non è che abbia tutto sto hype qui da noi cioè sì qual è vero a parte che cioè io ogni volta che vado in bar a bere un caffè mi becco regolarmente la canzone tipo tipo che mi perseguita però cioè non è un che potrebbe essere un artista che qua tecchito un po' che qua tecchito a livello americano tu dici c'è 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 ma prendi un Eminem un Eminem lo conoscono tutti anche chi non chi non ascolta musica il problema di Post Malone con la musica che fa per i primi album è che fa musica che fa chiunque quindi non arrivi a distinguerlo cioè se uno l'ascolta per la radio potrebbe sembrare la stessa canzone che ha fatto un altro dopo no? cioè non è non so secondo me anche il fatto che non ci sia più MTV o quelle robe lì che pompano i video secondo me manca anche tanto quello cioè il fatto di non riuscire ad associare la persona alla musica e la mancanza di video a meno che non sei fissato e ti vai a vedere i video su YouTube e tutto quanto però sì sì non te li passa nessuno non li vedi mai non capisci no no è vero è vero anche perché non c'è più io ho questo tarlo qua di Shawn Mendes non so se avete presente Shawn Mendes comunque c'è sto Shawn Mendes che fa ste canzoncine molto pop no? che passano su radio DJ e io tutte le volte che l'ho sentito anche parlare in un'intervista sempre di radio DJ e io me lo sono sempre immaginato come come si chiama quello sfigato di di Rod Trip forse comunque uno di questi sfigati che fa i film che fa questi film americani e io gli ho sempre associato quella faccia lì no? poi un paio di settimane fa sono andato non so perché cazzo sono andato a vedere chi era sto Shawn Mendes è un un figore sì no cioè poi tra l'altro non so se sta con una di Arianna Grande uno di questi da Camila Cabello sta con una di queste comunque sta con una figa fotonica lui è un certo però vedi vedi un Bruno Mars un Bruno Mars lo senti dappertutto e sai anche collegarli una faccia alla canzone no? sì sì è vero allora che poi che poi Post Malone sarebbe anche riconoscibilissimo perché c'è esatto sì sì però sai finisci per metterlo su sullo stesso piano di Young Signorino che in realtà sono due livelli sì sì esatto esatto ma secondo me perché comunque cioè Post Malone al fine è un artista commerciale ma non è mainstream cioè per qualche ragione non capisco neanche io perché forse perché non è presentabile non lo so che poi secondo me non è mainstream qua perché secondo me se andiamo in America non è in America io Post Malone l'ho scoperto perché me l'ha menzionato un mio collega americano perché secondo me è agro su grosso noi qua purtroppo la roba che ci arriva è un sacco filtrata anche dalle mode a noi ci arriva tutta la merda per dire del Sud America di Yankee sì però è in ritardo anche è in ritardo dove il trend in America è finito a due anni e poi arriva qua esatto e quindi ci perdiamo tante tante robe tante tante robe e ci becchiamo ci becchiamo tutte le cringiate come la nuova canzone di Tom Morello parliamo un attimo di quella parliamo un attimo di quella allora oggi Mike mi ha mandato questo link di questa canzone allora diciamo che era un pezzo di Tom Morello con un featuring dei Bremi di Horizon io non ho ben capito i Bremi di Horizon dove siano allora Oliver Sykes ok ma i Bremi di Horizon dove sono cioè non so perché il pezzo è un pezzo Rage Against the Machine sì sì cioè a parte la chittera di Tom Morello penso che tutto il resto siano i Bremi di Horizon che si sono adattati a fare che si sono adattati il pezzo potrebbe essere pericolamente un pezzo Rage Against the Machine cantato da Oliver Sykes sì il giro di Killing of the Name of c'è ripetuto e sotto ci sono adesso le immagini perché mi metto le immagini tanto basta penso che scrivo Tom Morello Cringe Cringe Tom Morello Cringe Medi Horizon Cringe Medi Horizon eh beh puoi chiamarla così la puntata Cringe Medi Horizon ok eccoci qua e la piazziamo allora il pezzo si chiama Let's Get This Party Started io pensavo fosse addirittura subito la cover di grande che pezzone che era quello lì e invece questo pezzo in cui all'inizio parte anche bene perché ci sono scene hardcore di gente che si sì ma sono le scene hardcore che stanno facendo i trend al momento perché il tipo che si becca la birra in faccia quando la gente sta mostrando sono quelle robe che hanno fatto hype quindi mischiano quelle robe cioè è tutto cringe sto video perché è tutto quello che sì è uno stereotipo diciamo esatto stereotipo a tutto anche perché avete appena visto qua c'erano i pezzi dell'assalto a Capitol Hill ecco lì quindi arriva questo è un video amp cioè c'è tutto quello che non dovrebbe esserci esatto esatto miscelato con queste robe adesso io la dico male sinistroidi ma sinistroidi nel senso che non so per l'America probabilmente sono anche diverse come perché loro hanno diversa sensibilità in realtà lo sono perché i Rage Against the Machines quello erano e lui è anche tipo diplomato ad Harvard in politica e tutto quanto quindi ovvio che non puoi ma secondo me ci sta anche perché c'è hai una canzone che praticamente ti incita a far festa però tutto quanto c'è la contrapposizione con lo schifo che sta andando nel mondo almeno secondo Tom Morello e anche tanti altri ovviamente secondo me sta lì il contrasto però è fatto talmente cringe cioè sembra non so magari siamo abituati troppo bene sai ti parti con tutta la colonna sono i Judgment Night che hai tutti i gruppi aircore con i rap e cosa potrebbe essere un altro cioè perfino l'extrema con J-Hacks dai perfino il mondo marcia con i fill è meno cringe di sta roba oh cosa hai tirato fuori il mondo marcia con i fill è grandissimo comunque mi era venuto come ti dicevo oggi a me mi viene in mente quando vedo sto roba i cani mi viene in mente il mio nome è mai più di Gaglioni 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 quello mi viene in mente e poi mi viene in mente quell'altra canzone che si chiamava dei System of a Down quella che parlava anche B-Y ah B-O-B bring your own bombs tipo B-Y o B delle bombe non so calzoni c'è nessuno uomo calzoni un po' un po' cringione no mamma mia brutta roba allora raga abbiamo fatto un'ora c'è da ricordare ancora ci sono da ricordare ancora un paio di cosette allora innanzitutto c'è paperissima sprint ah sì adesso tra poco c'è Giuliana e Brumotti che ci propongono no prima c'è il meteo prima c'è il meteo adesso cosa va a prendere quel pazzo scatenato non voglio non voglio saperlo ah ecco anche Gaglioni ci dice un'altra cosa interessante a me ricorda purtroppo qualsiasi roba di Pino Scotto sì esatto intanto mondo mondo Pino Scotto oh bella gente bella gente ma è un gold tra l'altro eh è un golden tipo ah no ma che figata dai che storia five record fantastico cavolo pezzone quello quello vale altro quello vale altro che le cebate della lisa questo va anche sopra al disco di Berlusconi che va chi è che ce l'aveva a war oggi il disco di Berlusconi che tra l'altro c'è anche ti spacco la faccia eh per lì è un vero collezionista no comunque dicevo allora innanzitutto è una ricorrenza oggi ragazzi perché tutti come diceva l'altro giorno Rico sono tutti buoni a ricordarsi del 16 di maggio ma oggi è il 30 settembre il 30 settembre cosa si fa ogni anno si va a svegliare i green day ragazzi quindi tutti a svegliare i green day wake me up when settembre ends tutti a svegliare i green day eh però aspetta che siamo ancora fregati col fuso eh no perché là per la mattina eh cazzo andate a svegliare settembre finisce domani che roba è no no vabbè dopo da vedere vabbè cioè dai a questo che ci schiacchiamo il video Ale lo dobbiamo mettere mettiamo solo il video però perché sennò ci segano allora com'è Gerry Scotti la ma vuoi la mia Pepe madonna cos'è il golden shower fantastico cioè bellissimo ma no poi Gerry Scotti è un personaggio veramente trash anche lui dai è Gerry Scotti che fa la golden shower tipo arriva eh raga 3 2 1 attenzione senti il sound stiamo solo un po' avanti per sentire il ritornello è arrivata la peperonetta ne ho fatta un po' attenta sai perché può essere un po' stregata no ragazzi ma fantastico è la mia Pepe 38 mila visualizzazioni incredibile 1690 ma è geniale fantastico bellissimo eroe Gerry Scotti eroe non so se vi ricordate Gerry Cala qualche anno fa aveva fatto una canzone Gerry Kalashnikov sì sì me la ricordo quella no non la mettiamo perché quella non si può inneggiare all'odio e poi si la prende con gli slipton che hanno 50 anni con le maschere cioè hai capito ma se dobbiamo tirare fuori l'ultimo dissing trash per la puntata è quello tra Massimo Boldi e Antonio Ricci dicendo che Massimo Boldi ha detto che ha inventato lui striscia una notizia dieci anni prima no ma non ci credo grande vogliamo le prove però e Antonio Ricci ha detto ma io voglio bene a Massimo e come volere bene a uno zio scemo tipo così poi raga cioè rendetevi solo un po' conto del periodo penso dovrebbe essere Boldi sì striscia a 30 anni giusto? sì sì no ma no ma dicevo che aveva fatto gli sketch tipo sai quando faceva un drive-in con le robe lì uno sketch di un TG satirico e dice ah mi ha rubato l'idea vabbè c'è comunque prendiamo solo il contesto ragazzi dieci anni prima vuol dire che era gli inizi degli anni 80 immaginatevi la cocaina che non girava a Milano la Milano da bere tipo la Milano da pippare quindi immagina cosa non potesse uscire fuori da quei festini che facevano infatti gli anni 80 erano l'inveglio del mondo dai no non scherziamo sì bei tempi gli anni 80 cioè tirava ancora e poi ecco ultima cosa che ci premeva dire un saluto a Mark Hoppus che ha annunciato al mondo intero che è uscito definitivamente dal cancro e noi lo sapevamo l'abbiamo scoperto un paio di giorni prima perché abbiamo visto che la sua salma non era presente tra l'unboxing di Simone Resid e quindi subito ho pensato se non c'è la salma di Mark Hoppus in quel super pacco vuol dire che è guarito noi non eravamo sicuri perché ci hanno creato tutto swipe e hanno detto ci sarà la salma di Mark Hoppus tra l'altro ragazzi Mark Hoppus è uscito dal cancro e probabilmente vabbè non ci ritornare comunque è tutto a posto ho visto il posto oggi tranquillissimo invece come si chiama quello degli agnostics Roger Miret ha avuto un'influenza conseguente al al vaccino una ricaduta no una ricaduta perché lui è stato operato passato però penso con le difese immunitarie abbassate abbia beccato un'infezione comunque c'era un video di lui da l'età di ospedale che dice ci vediamo nel pit comunque volevo dirvi tutto bene bene per lui infatti però questo ragazzi tenetelo bene in testa è la differenza tra da una parte l'arcore che questo qua cazzo non c'ha più i soldi li hanno svuotato completamente il portafoglio e Mark Hoppus che invece ha passato il cancro tranquillamente probabilmente il suo conto in banca non l'ha neanche tanto risentito perché sapete che in America quando becchi ste robe qua sono tanti cazzi tuoi ma comunque si è fatto cioè si è ritirati su i soldi Roger Mirai col col GoFundMe e tutte le robe e anche bei soldini quindi bene così anzi fa vedere come si può dire mi viene il termine in inglese l'attaccamento l'engagement della scena esatto quello che in altre sì Mark Hoppus i soldi ce li ha per me non ha avuto problemi non ha bisogno di fare grosse campagne è stato Dallas Taylor che anche lui sapete che aveva fatto quel casino incidente sì lui l'avevano tirato sotto era finito in coma poi è uscito aveva problemi aveva fatto anche lui GoFundMe perché non riusciva a pagarsi le cose beh ma diciamo se noi fossimo americani fossimo nella stessa situazione saremmo inculati perché chi ci caga anche con un GoFundMe ti so scherzare bisognerebbe fare come la tipa lì che ha fatto il GoFundMe perché cos'era già quella italiana che poi si è comprata il Mercedes è il cane il cane da mille euro porca traia comunque qua mi chiedono è possibile che io abbia visto in vendita una compilation di cui i proventi vada a rogermire e te è possibile io ho visto anche qualcosa ma perché ci sono compilation quadri magliette magliette io ho visto delle magliette ma può essere sai può essere anche adesso che siano cose non specificamente per lui ma vista la situazione diciamo ok sta compilando sto uscendo è italiana italiana non ho idea ragazzi cioè prima di accertatevene bene cioè non perché però non diamo soldi a gente che magari vuole scammare no ma magari magari può essere però non ho sentito parlare l'altro penso se ne parlerebbe nei canali ufficiali insomma quindi in genere è quello il mio discriminante ah ok ok esiste sì con abbat e un po' di altri quindi fate in abbat basta ovunque adesso esatto ok perfetto quindi se volete contribuire anche voi alla guarigione di Roger Miret c'è una a parte che se voi cercate su internet la trovate c'è una campagna GoFoundMe oppure c'è questa cosa della compilation e vi accattate e date una mano anche in abbat la campagna GoFoundMe è andata molto bene perché praticamente ha quasi duplicato il limite che si era prefissato quindi benissimo benissimo sì no no ci sta ci sta contenti ragazzi vi lascio un attimo la parola se volete concludere con i vostri progetti le vostre le vostre cose io so che vabbè Enrico non ho idea se tu voglia dire qualcosa a Mike sicuramente ho visto che hai un sacco in hype con il suo progetto quindi se vuole parlare un secondo vabbè io ho appena comprato il disco di Mike la ninfa il cadetto però fammi godere un pochino non fosse altro che ho paura di infognarmi troppo ma te lo comprerò anche io il disco Mike stai tranquillo quando 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 inquadratura alla Ricky Coppo salutiamo Ricky salutiamo Ricky che è arrivato quasi giunto alla fine dei suoi 40x40 quant'è adesso è vero è vero penso che abbia già passato la trentina non sono sicuro sì sì perché io mi sembra che avevo visto trenta ecco guarda mega spam allora questo è il nostro Chinese democracy sto qui perché questo è stato registrato nel febbraio del 2018 ed è uscito adesso grazie grazie una pizza anzi ascoltate il disco mentre scaldate la pizza e poi mangiatevelo di gusto perché la pizza è sempre la pizza cercateci su facebook e lì ci sono tutte le direttive per accaparare questo 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 dischetto questo 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 dischetto io tutte le volte che leggo il titolo mi viene in mente high hopes dei penny cat del disco comunque in realtà in realtà sta frase l'ho presa a caso dal film quello sull'acqua quello sull'acqua quale water 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 il potere dell'acqua la forma dell'acqua quello con la creatura e praticamente lei ogni giorno girava il calendario e dietro ce l'hanno dalle frasi e stavo vedendo e ho detto cazzo frase perfetta tac ho avuto il titolo neanche pensarci su poi si sul del toro esatto proprio quello esatto esattamente quello e quindi sì questo è un disco vecchio però nuovo perché è uscito il 20 settembre è un po' la summa dei nostri primi cos'era 2018 i primi quattro anni che abbiamo suonato sono pezzi più o meno antichi e quelli più recenti e adesso stiamo pianificando di fare pezzi nuovi perché anche ora bene quindi se volete se volete comprare il disco andate a cercare Mike Misery si Misery for a Living su Facebook o su Bankcamp poi lì sostanzialmente da scrivere la nostra mail poi vi mandiamo tutte le direttive così Bankcamp non si incula i soldi perfetto bravissimo a meno che si su Bankcamp c'è il digitale dicono la forma dell'acqua filmone però bisogna aggiungere qualcuno deve dirlo super rip off di Hellboy perché in Hellboy c'era l'umino che nuotava dentro la cosa che mangiava le uova marce è vero Hellboy cavolo infatti infatti lo volevo dire se mi lasciavi adesso presentare prego sono questi ragazzacci in podcast credo che registriamo lunedì correggetemi se sbaglio però un podcast carino che è tutto incentrato sul mondo del cinema in genere i ragazzi prendono un filone diciamo una tematica di base e scelgono un film bello o un film brutto e fanno una diciamo una discussione sui due con un po' di curiosità un po' di cose e visto che lunedì si registra una puntata sui film a base musica mi hanno chiesto di saltare a bordo quindi ma e sai già i film si possono dire no no in realtà non so niente non so se i ragazzi hanno già deciso o se vado là con la sorpresa non lo so non lo hai mai visto ti immagini che figuro di mer intanto ci saluta Kant dalla Zarote ciao ciao bello 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 bella vita Kant con in mano su Martini e no non beve lui quindi il Virgin Martini il Virgin Martini quello bello scelto quello brutto lo lascio ancora però non lo so ancora domani dove dobbiamo parlare ragazzi bello work the line secondo me secondo me quello brutto sarà The Dirt dei Motley Crue no dai Spinal Tap Spinal Tap è geniale comunque no riassumiti è a cavolo grande è la VHS Singles l'amore un gioco film del cavolo colonna sonora top non mi ricordo e se volete anche no effettivamente io avevo suggerito Jolly Blue degli 883 però vabbè beh ma lì cioè non puoi dire cioè è trash cioè quindi è brutto però bello allo stesso tempo perché è peggio senza filtro degli articoli 31 cioè ma infatti l'hanno già fatta la puntata i ragazzi su senza filtro ok senza filtro gran film allora andrà a recuperarla perché Enrico dai solo le coordinate perché quindi è un podcast che tu andrai a registrare dove lo si può trovare ma lo si può trovare credo su un po' tutte le piattaforme io lo ascolto sempre su Apple Podcast penso che si trovi un po' dappertutto ok comunque ragazzi spiedere in chat magari che voi siete più ok e comunque sono i ragazzi del film del giorno fanno anche live su Twitch loro non credo non credo però potrebbe essere interessante quindi è solo parlato quindi non ti si vede in tutta la tua bellezza non mi si vede in tutta la mia bellezza peccato ok cosa c'è qui allora trovata la compilation su Last One To Die un sacco di gruppi in sostanza ok Persona Jones dove c'entrano qui fuori a gennaio solo in pre ok ok quindi se qualcuno è interessato c'è questa compilation che solo in pre in senso in prevendita in prevendita immagino ma è digitale o fisica ma questo bisogna chiedere a Loris Loris se sai risponderci tu comunque è una compilation ripetiamo che serve a raccogliere fondi per Roger Mireth e per la sua situazione di salute si tutte le piattaforme podcast il programma è adesso ti voglio vedere a dirlo il saltangiorino ma te le viste queste ma te le viste queste non so io poi magari queste sarà queste però no no ma te le viste queste ok perfetto giusto le guardate per mezz'ora in vinile fanno solo copie preordinate ok perfetto quindi sarà vabbè cioè tu paghi e stampano quello che viene confronto ah ecco poi ci sarà canter ah perfetto sempre sul pezzo ok quindi aspettatevi aspettatevi la puntata di canter che vi spiegherà poi tutto sì che adesso la farà però dalla sua villa a Lanzarote con tutta servitù cazzo ha affittato la villa di Post Malone mi sa che apterò per sta visuale per le prossime dirette perché almeno ho uno sfondo decente non il muro bianco tipo ah guarda io ho lo stand di panni sto dicendo figa c'è Enrico imbruttito Enrico Inbruttito Enrico Ottavo questo è lo per lo show per andare a seguire lo show non so quando sarà la puntata dove c'è Enrico comunque voi nel dubbio andate a sentirvele perché mi pare che escono il venerdì le puntate quindi potrebbe essere che registrano lunedì e venerdì prossimo ci sarà credo perfetto andate a beccarvele su Spreaker tra l'altro trovate anche tutte le puntate di Pancast e tutte le puntate anche dell'altro mio podcast un tè caldo quindi se volete bellissimo non abbiamo parlato Ale come sta andando avremo occasione no bene bene sono contento allora avevo deciso subito all'inizio avevo deciso di unire le due diciamo le due cose poi alla fine non mi scompifferava perché alla fine ho visto che comunque chi è appassionato di hardcore ce ne sono pochi che sono appassionati di hardcore e hanno anche voglia di andare a beccarsi della roba del calcio quindi l'ho divisa e così secondo me è più è più ordinato comunque è figo se avete voglia di andare a cercare un tè caldo si chiama ah ecco venerdì settimana prossima comunque in assenza di Sarah Panca posso dire che lunedì è il mio vero compleanno il 4 è vero auguri oggi Mike hai ragione cazzo auguri Mike lo scrivo io per te in chat auguri c'è ancora in chat Warhols è vero non lo so non so neanche come si fa vede si ci sarà un modo per vedere non lo so vabbè comunque auguri a Mike per il suo compleanno il 5 il 4 il tuo compleanno 4 il 5 di mia moglie 4 e il 16 invece c'è il buon canto ah orca madonna tutti ottobre siete cavolo ci vorrebbe no però bisognerebbe fare una puntata ad hoc di Sarah Panca così per davvero si possono fare gli auguri si tanto ti fanno già gli auguri tanto te ne ho fatti tanti tante volte quest'anno gli auguri che sei invecchiato di 15 anni guarda che grigiume tra l'altro scusami ma vogliamo dirle che comunque sto trio qua è uno spin off di Sarah Panca perché comunque giustamente giusto esatto siamo nati a Sarah Panca e continuiamo continuiamo a calcare la scena punk rock italiana con le scarpe della Lidl aspetta sono tutto anzi proprio proprio un altro ricco guarda non ve lo fate vedere prima ma grande grande 2 a 1 Mike si ma questo è l'unico bianco nero che ci si concede cazzo si non iniziamo a parlare di calcio se no non ne finiamo più allora raga un'ora e 27 abbiamo sforato di 27 minuti ma ci sta ci siamo divertiti allora vi ricordo che il questo show questa è la prima puntata andrà in onda adesso io non so bene quanto spesso ma quando ci saranno delle cose da dire ve le diremo ho le Adilette pure io bravissimo questo show verrà ricaricato su youtube probabilmente anche su Spreaker perché perché sì perché ciò vale ricaricato anche lì io ringrazio assolutamente i miei due ospiti come al solito è sempre fighissimo parlare con voi abbiamo fatto una bella chiacchierata abbiamo parlato di un sacco di cose fighe se volete riascoltarvi la puntata la trovate qua su twitch oppure su youtube da domani o dopodomani e un saluto di nuovo a tutti un abbraccio seguite Enrico seguite Mike sui loro canali social seguite Pankas su tutti i canali social a presto grazie ancora buonanotte ciao ciao ragazzi ciao 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 ciao